Benvenuti al nostro podcast sulla rivoluzione creativa portata dall'intelligenza artificiale nel mondo della produzione musicale e video. Oggi esploreremo come chiunque, indipendentemente dalle proprie competenze tecniche, possa creare videoclip musicali professionali utilizzando strumenti IA all'avanguardia. Iniziamo parlando di suo, un'applicazione innovativa per la creazione musicale. Immaginate di poter comporre una canzone semplicemente inserendo alcune parole chiave e scegliendo un genere musicale. Con suo, questo è possibile. Volete una canzone estiva? Basta inserire parole come «sole» e «spiaggia», selezionare il genere desiderato, e in pochi istanti avrete un brano originale. Suo offre anche la possibilità di personalizzare la voce, scegliendo tra maschile e femminile, e persino di emulare lo stile di artisti famosi. Con 50 crediti gratuiti al giorno, potete creare fino a 10 brani, permettendovi di sperimentare ampiamente. Passiamo ora all'animazione delle immagini con Luma Dream Machine. Questo strumento straordinario trasforma foto statiche in video animati. Immaginate di avere una foto di un tramonto in spiaggia, Luma può animarla, facendo muovere il sole verso l'orizzonte. Ma non si limita solo a questo. Potete anche creare video partendo da una descrizione testuale. Ad esempio, descrivendo un cane che nuota sott'acqua con un'espressione felice, Luma genererà un video corrispondente. Offre anche opzioni di movimento della camera per rendere i video più dinamici. Tuttavia, è importante notare che la versione gratuita ha alcune limitazioni, come un massimo di 5 generazioni al giorno e video di breve durata. Una volta creata la musica e i video animati, è il momento di assemblare il tutto in un videoclip coerente. Qui entrano in gioco strumenti come CapCut e Canva Pro. CapCut è un programma di montaggio video intuitivo che permette di unire facilmente spezzoni video e audio. È perfetto per combinare i video creati con Luma e la musica generata con suo. Canva Pro, d'altra parte, offre una vasta libreria di video pronti all'uso, molti dei quali gratuiti o disponibili con un abbonamento. Questo è ideale per integrare contenuti aggiuntivi nel vostro progetto. Ad esempio, potreste aggiungere spezzoni di persone che ballano in spiaggia per completare il vostro videoclip estivo. Canva Pro offre anche la possibilità di generare video a partire dal testo, anche se la qualità può variare. La bellezza di questo processo è che unisce creatività e tecnologia in modo accessibile a tutti. Non serve essere esperti di produzione musicale o video editing per creare contenuti di qualità professionale. Con questi strumenti IA, potete trasformare le vostre idee in realtà visiva e sonora in poche ore. Tuttavia, è importante essere consapevoli dei limiti di questi strumenti. Le versioni gratuite spesso hanno restrizioni sul numero di creazioni o sulla lunghezza dei video. Inoltre, mentre l'IA è impressionante, non sostituisce completamente la creatività umana. È uno strumento potente che amplifica le vostre idee e vi permette di realizzarle più facilmente. In conclusione, stiamo assistendo a una democratizzazione della creazione di contenuti multimediali. Strumenti come suo, Luma Dream Machine, CapCut e Canva Pro stanno abbattendo le barriere tecniche, permettendo a chiunque di esprimere la propria creatività attraverso la musica e i video. Che siate content creator professionisti o semplicemente appassionati, questi strumenti IA aprono un mondo di possibilità creative. Vi incoraggiamo a sperimentare con questi strumenti e a vedere dove vi porterà la vostra immaginazione. Ricordate, la tecnologia è solo uno strumento, la vera magia sta nelle vostre idee e nella vostra visione creativa. Buona creazione a tutti! Grazie per aver ascoltato. Se vi piace il podcast, non dimenticate di seguirci sui social media,